Un pisolino per Max. A Corona oggi c'è il sole. Tutti brillano di felicità tranne Maximus, il capitano della guardia reale. Sembra molto stanco. Rapunzel lo osserva preoccupata. Eugène e Rapunzel chiedono a un soldato cosa non va nel loro amico. Non vuole dormire, risponde quello. Va a caccia di malfattori di notte e di giorno. La principessa e Eugène guardano il destriero, che a malapena si regge sulle zampe. Rifiutarsi di dormire è sbagliato, dicono entrambi. Bisogna escogitare un piano. Poco dopo i due avvicinano Max. Non trovo Pascal, temo sia successo qualcosa, lo avverte Rapunzel. Max si mette subito a cercare. Annusato il passaggio del camaleonte, Max raggiunge le stalle. Ecco Pascal, bravo amico, esclama Rapunzel. Ti meriti un pisolino sul fieno fresco, ma lui scuote la testa. Rapunzel non è riuscita nel suo intento e così Eugène ha un'altra idea. Dal frutteto sono sparite tutte le mele, grida ad un tratto. Max parte subito al galoppo. Il destriero individua delle impronte, le segue fino alle cucine reali. Ma non si tratta di un furto. Le mele sono servite alla cuoca di corte per preparare un dolce. Adoro la torta di mele, dichiara Eugène. Dopo una buona fetta mi viene sempre sonno. Vuoi un assaggio, Max? L'animale si allontana, lui non può dormire. Allora Rapunzel elabora un altro piano. Così si mette a strillare. I ragazzi del bel anatroccolo sono neguai. Maximus fa salire in selle i suoi amici e via di corsa. Ma dentro la taverna nessuno è neguai. Anzi, i ragazzi sono tutto intorno al pianoforte che cantano e ridono. Il destriero è confuso. Sta per andarsene quando Rapunzel lo richiama. Aspetta, prenditi una pausa. Resta per una canzone. Max è commosso. Qualcuno si preoccupa per lui. Con un nitrito acconsente. Rapunzel allora sussurra una parolina all'orecchio di Uncino, il grande pianista. E mentre lo suona, una ninna nanna, Max comincia a ondeggiare e a chiudere gli occhi. Finalmente Maximus si concede il giusto riposo e gli amici lasciano la taverna regalando al valoroso capitano un po' di pace. Ciao, alla prossima avventura. Ciao a tutti!